ciao a tutti ragazzi qui a snipper di buck power pro e bentornati sul nostro canale ragazzi oggi qui siamo con un nuovo gioco in un nuovo video ragazzi in nostra compagnia abbiamo alex saluta ok alex si è inietato il topping prima di farlo video allora le cosa andremo a fare in questo nuovissimo gioco che abbiamo avete visto tutto scusatemi adesso perderò allora ragazzi perché vale cosa andiamo a fare in questo gioco chiamato pen apple pen noi vogliamo fare un gameplay come si deve e faremo io contro andrea a turni sfida vince chi fa il record più grande perfetto vabbè praticamente questo gioco non so se conoscete la canzone penso di sì perché ragà alex 131 milioni chi conosce sta canzone è cinese è proprio cinese no non è cinese perché la conoscono tutti la conosce pure mia nonna vabbè ragà allora vai con un po in apple pen inizia ragà questa è una prova vai abbiamo iniziato è bellissimo prova fallita no ragà mo gioco serio vai con la prova ok ok allora questa va piano quindi mi vuole poter la vita giudicando giudicando ragà che il nostro record era 22 in teoria era a turno vabbè era a turno e mo gioco serio ok doppia col pen raga il bello è che io prima di iniziavo mi sono esercitato ero fortissima adesso sono in ebbete che che gioca per la prima volta non è vero esatto 17 oddio ragazzi eccezionale potremmo superare record oddio oddio è vero raga non è vero raga 24 raga voglio 28 like per il record 28 oddio 21 no 31 raga alex alex la vedo dura a battermi vai vai questa ricordati che è una prova però concentrati è vai con 31 raga hashtag 31 nei commenti ok ok o le o le o le ragazze ho paura ragazze vai 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 no 24 raga come potete vedere bene alex anche se voi non lo vedete io sì è disperato si sta buttando sul letto è disperato ora vado in un'angolino a impiccarmi quindi ragazzi nel prossimo video si chiamerà rip alex in diretta voraccio 30 31 direi che questo round di prova l'ho vinto io visto che sono antipatico inizia alex vabbè alex è tutto vero concentrati non fare battute concentrati perché è tutto vero eh vabbè perfetto sia benissimo raga oddio sperati raga mi sto cagare sotto questa qua regala tanti punti appunto eccolo appunto oddio no raga questo mi fette malissimo no oddio alex si è iniettato il topping prima di sto video ve l'ho già detto no 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 è partito sì il 19 comunque è buono è partito il click lo so anche a me capita fai smadonna sta cosa lo so tipo vedi una cosa sporca ti parte il click non è possibile che a te ti fa sempre i pempa in app o l'app o il pen perché io sono akab te l'ho detto allora io pure guarda 1 3 1 2 ragazzi vi volevo dire che prima di fare questo video io subito per sbaglio ho aperto diciamo una cosa cioè diciamo che una cosa che ti regala tantissime monete cioè tu dovevi colpì nananas e ti regalava tantissime monete l'ho già fatto infatti come potete vedere 222 ora dobbiamo aspettare 23 minuti ma scisce allora iniziamo tocca a me alex io ne tornei faccio sempre cagare perché ho la pressione addosso pen apple pen doppia incredibile io sono bello io devo penare mamma mia pen apple pen ragazzi no no perché è partito pure a lui quindi quindi 1 a 0 per te perché io ho fatto 15 tu 19 ragazzi avete notato io alla prova ero una bestia perché nessuno mi osservava giusto eh mentre adesso ho l'ansia dentro ho fatto 15 vai alex ok tanto mo alex se lo caga perché lui la fottura c'era soltanto all'inizio ok pen apple pen eh no però sì l'ho detto raga l'ho detto vabbè dai visto che siamo buoni però alex questa cosa me la devi concedere anche tu te lo rifai però sta cosa mi ha concedi eh all'inizio hai fatto 8 volte però dettagli dai dettagli dai giusto una prova ragazzi oh incredibile oh incredibile è partito ma lì oh quello doppio è tosto 11 vabbè sta ancora sotto no i 12 io devo ancora fare e ragazzi chi batte il record cioè raga chi batte automaticamente il record arriva a più di 31 ha praticamente vinto e il video si finisce perché no non è vero no scusa ti picchi ti picchi sì vabbè ragazzi allora dalle minacce di morte di alex pen apple apple pen raga che merda però me la concedi me la concedi ok monzo non si scherza più eh vai perfetto questa foto che questo è oddio mi ha regalato le monete bellissimo vai doppia bellissima alex hai notato che quelle doppie si prendono più facilmente perché sono due quindi c'è più probabilità vai oddio raga 29 oddio no 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 non è vero 31 29 raga nei commenti questa mancia l'hai vinta tu l'ho vinta io quindi siamo 1 a 1 questa si è la bella è la bella voglia 1 a 1 eh raga poi ora vediamo quanto si arriva scriveteci nei commenti che è stato il più bravo che è chi vi sembra il più importante in questo gioco se ce lo volete comunque ce lo volete riporre ce lo volete di nuovo guardate anche no rifare nel canale alex dice di no però lo farò io con un altro membro i bap oltre oddio mi piace troppo raga mi piace è figo oddio inizia bene alex se i primi 10 non perdi arrivi molto alto questo fotte capita questo soltanto questo alex capita soltanto a te oddio oddio perfetto 11 11 occhio nooo che schifo raga facciamo una cosa visto che non voglio vincere così guarda questo allora ti faccio rifare ma io mi aggiungo 3 punti che ne dici pezzo di merda raga alex è troppo malato avevo fatto 20 io la faccio 20 furbacchione però tu puoi rifare però facciamo così tu ti aggiungi tu ti aggiungi 2 punti va bene va bene 2 punti 2 punti andiamo pen apple pen raga non è vero raga ci credete alex testimone mi ha visto ho visto un moscerino qua davanti sul mio fottutissimo schermo di telefono premo per ucciderlo cioè per cliccarlo pensavo che avevo fatto bene e invece no riprovare ti prego grazie alex me lo ricorderò tranquillo questo chi è oddio quello andava più veloce mamma mia questi qua come cazzo l'ho preso dici 14 stiamo crescendo sempre così stiamo crescendo ragazzi 4 22 ragazzi 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 no 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 grande ali alex sta nella strada giusta ragazzi prima 23 20 no 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 ragazzi ragazzi mi spacca che è sotto no ragazzi no no si no si no si aspetta aspetta il record qual'era 31 non allora ho vinto 32 32 sono il meglio lanciatore di pene ragazzi siamo stati entrambi bravi fateci sapere qua sotto nei commenti chi è il migliore secondo voi con un bellissimo hashtag fateci sapere anche se volete dei giochi di questo tipo per il telefono esatto che lo facciamo molto lo facciamo con piacere io e Alex perché del canale noi due siamo i più grandi i meglio i meglio ragazzi i meglio no no dite agli altri no stiamo a scherzare ovviamente dai quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel pollicione e sniper vi manda un grandissimo abbraccione le papere sempre le papere ciao